Le due squadre abruzzesi di Lega Pro cominciano a rodare i motori in vista del prossimo campionato. L'Aquila è al suo terzo giorno di ritiro in terre laziali ad Amatrice e giovedì avrà il suo primo test amichevole contro la locale formazione che milita in terza categoria. Porte aperte ovviamente per i tifosi aquilani e con molta probabilità ci sarà anche il presidente Chiodi ad assistere alla prima sgambata dei Rosso-Blu. Intanto è atteso per oggi l'arrivo dell'attaccante ex arzanese Salvatore Sandomenico insieme al procuratore Maurizio De Rosa che potrà essere una pedina fondamentale per sistemare un giocatore in uscita della sua scuderia Francesco Ripa ambito da diversi club di Lega Pro. In attesa di sistemazione c'è anche e soprattutto Nicola Ciotola. In casa Teramo invece dopo la goleada rifilata al Solandra-Valdisole prosegue a ritmo serrato il ritiro in Trentino. Cure speciali per Andrea Bucchi, autore di Sei reti nella prima uscita amichevole stagionale. Il capitano viene continuamente monitorato dallo staff tecnico Biancorosso e ha dichiarato tutto il suo entusiasmo di iniziare la nuova stagione di Lega Pro. Domani alle 17 ci sarà la prima amichevole impegnativa per il Diavolo contro il Vicenza sul campo di Andalo mentre oggi è previsto l'arrivo in ritiro del difensore francese Diakite.